Con dieci voti favorevoli da parte dei consiglieri della maggioranza opposizione, assente Calogero Pedalai, tre astenzioni degli indipendenti Rita Fachile, Calogero Carrabotta e del neoconsigliere insediato Sighieri al posto di Enrico Natale, cioè Salvatore Zingale Salì, il Consiglio Comunale preseduto da Antonio Scurri ha approvato il bilancio di previsione 2016. Per quel che concerne la posizione di Zingale Salì, primo dei non eletti della lista del PD, schieramento a sostegno del sindaco Carmelo Sottile, ieri dopo l'insediamento si è dichiarato indipendente, rinforzando il gruppo misto di cui fanno già parte Fachile e Carrabotta. Ieri i cinque consiglieri a sostegno della giunta Sottile hanno letto un documento e ha abbandonato l'aula. Si chiude il tormentone bilancio, mentre si registrano posizioni discordanti sul fatto che il bilancio di previsione potesse essere approvato o meno già il 14 dicembre 2016. Purtroppo il Consiglio Comunale sconta un ritardo di otto mesi con i quali l'amministrazione comunale ha portato all'attenzione del Consiglio il bilancio. Il termine è scaduto il 30 aprile del 2016. Il bilancio è arrivato a dicembre e non si è potuto approvare nella seduta del 14 dicembre perché non erano ancora scaduti i termini per gli emendamenti che scadevano il 15 e nella seduta del 27 perché nel frattempo era intervenuta la sentenza del CGA che modificava la composizione del Consiglio con l'uscita del consigliere Natale e la necessaria surroga di Zingales. C'è stato un dibattito in aula, un intervento chiarificatore in termini tecnici da parte del segretario generale. Si poteva tranquillamente approvare il bilancio già in quella seduta perché nel regolamento di contabilità e nella disponibilità del Consiglio Comunale si poteva o attraverso un'interpretazione o comunque di fatto approvare il bilancio senza avere il problema di un termine per la presentazione di emendamenti che in realtà era già scaduto come termine iniziale, la questione collegata all'interpretazione di questo regolamento verteva su un eventuale slittamento automatico nel caso di integrazioni agli allegati del bilancio.